Zona gialla rinforzata a partire da oggi ma weekend arancione. Fino a domenica 10 gennaio infatti varranno le stesse regole per tutta Italia, seppur diverse giorno per giorno, mentre da lunedì si ritornerà alle zone di colore che cambieranno in ogni regione dopo il nuovo monitoraggio. Domani si conosceranno le decisioni del Ministro della Salute Roberto Speranza in base ai dati e il contagio che attribuiranno i colori alle regioni. I parametri di valutazione cambieranno in senso più restrittivo. Per passare da giallo ad arancione ci vorrà un indice di contagio RT di 1, prima era 1,5 e per la zona rossa RT a 1,25 e non più a 1,50. Oggi e domani il paese torna in giallo rafforzato, condivido il spostamento tra regioni salvo i consueti casi previsti. Ci si potrà invece muovere all'interno della propria regione sempre. Coprifuoco dalle 22 alle 5 dell'indomani, bar e ristoranti potranno riaprire in quei due giorni fino alle ore 18, poi solo a sporto fino alle 22 e consegna a casa. Negozi aperti fino alle 20, via libera anche ai centri commerciali. Sabato 9 e domenica 10 l'Italia tornerà arancione e si prevede che sia così per tutto gennaio ogni weekend. Vietato muoversi da regione e da comune, tranne le consete eccezioni anche per centri con meno di 5.000 abitanti in un raggio di 30 km, sempre con autocertificazione. Bar e ristoranti aperti ma solo per asporto fino alle 22 e consegna a domicilio. Negozi aperti ma centri commerciali chiusi. Da lunedì 11 a venerdì 15 gennaio si entra in una fase al momento senza certezze. Dipenderà dalla divisione in fasce di colore. Saranno in ogni caso vietati gli spostamenti tra regioni anche gialle. Nelle zone russe la deroga degli spostamenti per due persone per andare a trovare amici o familiari è limitata al comune e non più alla regione come nelle feste di Natale. In generale per la seconda metà di gennaio si valuteranno i dati del contagio per le restrizioni.